Oggi facciamo le more sciroppate con la ricetta facile e veloce della nonna. Raccogliamo un po' di more nel bosco, laviamole ed asciughiamo. Mettiamo le nostre more, lavate ed asciugate, in barattoli di vetro ben sterilizzati prima. E ricopriamo di zucchero, usando lo zucchero di canna oppure quello semplice che abbiamo in cucina. Importante però che esse vengono ricoperte totalmente, esattamente come vedete in video. Chiudiamo i barattoli eremeticamente con i loro tappi. E mettiamo i nostri barattolini al sole. Dovranno stare così per 20 giorni. Agitandoli almeno una volta al giorno. Esattamente così come vedete in video. Nel frattempo il calore del sole ha formato il sottovuoto. Dopo i 20 giorni ecco il risultato. Le more sono golosissime, succosissime, pronte per essere consumate a volontà. O farcire dolci e torte di nostro desiderio. Facile no? Se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao, ti aspetto!